Marche per Turchia e Siria, partono tirre di aiuti Biolaboratorio alla Torraccia, il lecaso arriva in Parlamento Cavalca Ferrovia, a marzo via le cantiere che durerà un anno Confesercenti diventa cassa delle microcredito Sport, Little Service conquista le Final Four di Coppa Italia Una buona serata Buona serata, telespettatore di Rossini TV e benvenuti a questa nuova edizione di Rossini News Telegiornale di mercoledì 15 febbraio che apriamo occupandoci della solidarietà del nostro territorio verso le popolazioni terremotate di Turchia e Siria La Regione Marche ha risposto positivamente alla richiesta di aiuto pervenuta dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile per fornire attrezzature e materiali per l'emergenza sisma Questa mattina la Protezione Civile regionale ha predisposto un carico diretto a Palmanova, in provincia di Udine dove partiranno nuovi aiuti dell'Italia coordinati dal Dipartimento Nazionale Il materiale messo a disposizione dalla Regione riguarda un gruppo elettrogeno da 200 kW, 1800 giacconi antipioggia, 1500 giacche QA, 390 coperte di lana, 50 sacchi a pelo In un secondo invio verrà spedito un potabilizzatore per acqua con capacità produttiva di 1500 litri all'ora Ed ora cambiamo argomento e ci occupiamo di Pesaro per parlare del biolaboratorio che dovrebbe nascere in zona torraccia Un caso discusso al punto tale da arrivare fino in Parlamento Vediamo Continua la caccia a garanzie e rassicurazioni in vista dell'approvata realizzazione del biolaboratorio in zona torraccia conseguente al trasferimento e ampliamento dell'istituto zooprofilattico Togo Rosati attualmente collocato a Villa Fastigi Un'alienazione di terreno sulla torraccia avallata dal comune di Pesaro Dopo la creazione di un comitato che si è opposto a questa realizzazione sono arrivate le rassicurazioni ribadite a più riprese dallo stesso direttore dell'istituto Vincenzo Caputo Prima la commissione ambiente del comune di Pesaro poi la commissione sanità della regione Marche presieduta da Nicola Baiocchi Ora il caso arriverà fino alla Camera dei Deputati A portarcelo è il parlamentare pergolese di Fratelli d'Italia Antonio Baldelli che ha presentato una interrogazione ai ministeri di Salute e Ambiente Per Baldelli le rassicurazioni che si stanno susseguendo non combaciano con adeguata trasparenza sulla vicenda e le preoccupazioni di cittadini e comitato sarebbero giustificati considerando che la tipologia del laboratorio in questione è in grado di garantire sperimentazioni e manipolazioni in vivo e in vitro di agenti virali pericolosi per la salute Dall'altro canto l'istituto zooprofilattico ha invece più volte garantito l'assenza di sperimentazioni al di là del trattamento di animali di piccola taglia sospetti di patologie da contenere Ora Baldelli porterà la vicenda a livello statale per gli approfondimenti di trasparenza presumibilmente definitivi E continui le 2023 di grandi partenze per quanto riguarda le opere pubbliche a Pesaro è imminente infatti la manutenzione straordinaria delle cavalca ferrovia per un cantiere che arriverà fino alle 2024 E' lì da mezzo secolo e da un lustre sottoposto a periodici stralci di lavori di riqualificazione che ora intravedono l'ultimo miglio del completamento Il cavalca ferrovia de sabato è pronto all'ultimo cantiere quello della manutenzione straordinaria un cantiere che inizierà i primi di marzo e durerà un anno Il semaforo verde alla partenza è arrivato ad inizio settimana dopo l'incontro fra il comune, la ditta Brandi Costruzione alla quale è stato assegnato un mese fa l'appalto da 3 milioni per il quale si erano presentate altre 183 ditte e Ferrovie Italiane che parte integrante della partita visto che questa volta si andrà a intervenire anche sopra i binari Un'arteria strategica per la città è importantissima e che ci vedrà quindi impegnati per tutto il 2023 in un intervento complicato, complesso e delicato e importante come dicevo sono 3 milioni di finanziamenti ottenuti da un bando il bando ministeriale del Ministero dell'Interno poi transitate nelle risorse PNRR che ci consentiranno quindi di andare a sostituire i cordoli ammalorati andare a sostituire le barriere laterali prevedere una nuova illuminazione un'illuminazione che riprenderà anche quella storica quindi con la realizzazione di una strip LED e di un'illuminazione invece per la messa in sicurezza potenziata della strada Il Comune aveva completato un primo intervento con risorse proprie agendo su messa in sicurezza di cordoli e guardrail e ora l'intervento più delicato Un lavoro complesso perché alcune lavorazioni in particolare ad esempio quelle che insistono sopra i binari del treno richiederanno lavorazioni negli orari notturni richiederanno in alcuni casi anche in sinergia andremo a realizzarlo insieme a RFI perché è possibile che venga prevista in alcune ore la sospensione del traffico ferroviario L'ultimo incontro con RFI in particolare ha convenuto che sarà sospesa in più occasioni il transito dei treni merci mentre non si dovrebbe sconvolgere la percorrenza dei treni passeggeri nel 2024 al termine del cantiere il ponte tornerà a quattro corsie e la Confesercenti di Pesaro Urbino diventa cassa delle microcredito apre infatti lo sportello che offre nuove opportunità di credito a piccoli imprenditori, giovani, start-up e privati vediamo il servizio Gli uffici Confesercenti di Pesaro aprono lo sportello della cassa del microcredito uno strumento nato per agevolare l'accesso al credito a piccoli imprenditori, giovani e start-up in tempi rapidi un modo innovativo per accompagnare lo sviluppo dell'impresa dall'idea alla realizzazione del progetto fornendo un supporto finanziario La cassa del microcredito, essendo un operatore iscritto come operatore di 111 del testo unico bancario dà la possibilità soprattutto ai miei imprenditori e alle nuove imprese di poter accedere sostanzialmente al credito e poter sviluppare un'idea imprenditoriale Si parte dall'idea, noi naturalmente mediante il supporto del territorio e quindi abbiamo formato adeguatamente tutte le persone sul territorio anche la provincia di Pesaro naturalmente ha un tutor abilitato adeguatamente iscritto nell'apposito albo e formato dalle strutture nazionali che possono naturalmente aiutare l'imprenditore nel poter richiedere un finanziamento e soprattutto nel dare quella finanza necessaria per poter iniziare l'attività stessa Ci sono tantissimi giovani abbiamo iniziato l'attività da pochi mesi, da quattro mesi ci sono tantissimi giovani che si sono affiancati avvicinati a noi per richiedere credito e hanno ottenuto il credito anche giovani ingegneri di 25 anni che hanno iniziato grazie a noi un'attività imprenditoriale questa è stata una bella iniziativa e che speriamo di incrementare abbiamo le disponibilità necessarie della Casa Mare quindi di Confesercenti per poter finanziare l'impresa abbiamo un budget importantissimo di raggiungere al 31-12-2023 circa 20 milioni e speriamo che ci siano tantissime richieste da poterle esaurire Il servizio inoltre non sarà rivolto soltanto agli operatori commerciali ma metterà a disposizione dei privati diversi prodotti dai finanziamenti personali a quelli per lo studio dei figli Siamo molto felici perché è un investimento per il territorio molto 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 importante abbiamo risorse, abbiamo disponibilità le imprese oggi hanno bisogno sia per partire quindi una start-up che viene in questo modo facilitata di tanto quindi aspettiamo che le imprese ci portino dei progetti che siano ben visti, che siano valutabili che siano ben strutturati per poterli finanziare questa è la nostra nuova mission Tutto l'iter della pratica una volta che il nostro tutor avrà la documentazione si svolge nell'arco di pochissimi giorni un paio di settimane quindi l'erogazione è rapida è veloce, è molto smart il tutor si occupa soprattutto di tutto quindi tutti i documenti vengono realizzati qui E si è conclusa ieri la BIT di Milano che ha visto anche le nostre telecamere protagoniste alla Borsa Internazionale dell'Eletturismo con una serie di approfondimenti che vi stiamo proponendo in questi giorni Se vieni nelle Marche si vede e questo è lo slogan che ha accompagnato l'annuale approfondimento della regione da parte di Inside Marche Live Se vieni nelle Marche si vede Con questo slogan nella quarta edizione del Fuori Bitta Milano Inside Marche Live, tour operator incoming delle Marche, ha riunito 120 ospiti fra imprenditori allegati al turismo buyer e istituzioni in un contenitore unico in cui dare risalto al valore delle Marche con la sottolineatura all'insegna di una cena con prodotti tipici e vini del territorio Obiettivo, collaborazione e unione di intenti per portare la regione Marche al livello di turismo all'altezza di quello che meritano le sue eccellenze Le Marche sono un territorio molto vario con tante cose da vedere con tante bellezze ma che si promuove insieme questo perché l'obiettivo è riuscire ad aumentare soprattutto il numero e anche la qualità ovviamente a livello dei turisti soprattutto internazionali L'obiettivo di Inside Marche Live che è l'associazione dei tour operator che fa incoming nelle Marche con oltre 30 soci è proprio quello di promuovere e commercializzare tutta la nostra regione cercando di collaborare tra pubblico e privato cercando di far vedere a chi è già venuto nelle Marche che abbiamo tante bellezze e tante esperienze da far fare a chi non ci è ancora venuto che è comunque un luogo assolutamente da visitare che è imperdibile adesso stiamo investendo molto in iniziative come queste ma anche nell'organizzazione e nella promozione di fiere soprattutto anche all'estero questo è molto importante perché riteniamo che aumentare i turisti internazionali e le presenze di stranieri nella nostra regione sia un valore aggiunto perché poi rimangono nel territorio lasciano ricchezza e soprattutto consentono a tanti giovani magari di rimanere a vivere qua e lavorare qua perché questo è fondamentalmente poi l'obiettivo delle imprese l'esempio di Inside Live sia un esempio molto virtuoso e proprio su questo noi come Regione Marche credendo fortemente nella rete nel fare sinergia tra diversi enti e associazioni lo abbiamo voluto fare con un bando specifico che ha previsto l'istituzione di reti tematiche che poi confluiranno nella figura del direttore di rete una figura che avrà appunto come obiettivo fondamentale quello di legare insieme diversi luoghi della cultura quindi musei archivi e biblioteche tutto questo per promuovere in maniera unitaria i luoghi della cultura e vi ricordiamo che lo speciale dedicato proprio a Se vieni nelle marche si vede di Inside e Marche Live andrà in onda lunedì in prima serata il 20 di febbraio alle ore 21 e 40 ma nel contesto della beat il nostro Antonio Astuti ha anche intervistato Saul Salucci presidente dell'orchestra Sinfonica Rossini fra i testimonial a Milano dell'eccellenza musicale della nostra regione come orchestra organizziamo in tutti i periodi dell'anno delle attività che sono sia per chi ama la nostra musica quindi il grande Gioachino Rossini ma anche attività estive con attività di intrattenimento musica anche moderna in luoghi stupendi della nostra regione Pesaro Fan Urbino ma anche tutto il territorio della regione Marche quindi per chi volesse venire nella regione Marche sicuramente musica e divertimento ce n'è in abbondanza ce lo faccia dire presidente lei l'ha già anticipato noi abbiamo una regione straordinaria che ci mette a contatto con l'ambiente col mare con la montagna con la cultura con le moto con lo sport e con la musica legata a questo nome così importante qual è quello di Gioachino Rossini ma non solo perché poi in realtà la musica è diffusa in tutto il territorio della nostra regione ed è davvero un biglietto da visita unico sì quest'anno tra l'altro faremo dei concerti sul colle dell'infinito quindi Giacomo Leopardi poi a Pesaro nelle cantine vitivinicole per un'attività di degustazione del vino assieme a musica dedicata e poi al teatro di Matelica un gioiellino della regione Marche sicuramente da riscoprire quindi lungo la costa nell'entroterra nei borghi ci sarà musica e tanta attività e proseguono i lavori di riqualificazione della facciata di Casa Rossini questa mattina l'assessore alle fare Riccardo Pozzi ha incontrato gli operatori e restauratori della camma SRL di Fano incaricata dall'intervento delle valore di 92.000 euro di cui 60.000 contributo della fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro come da cronoprogramma gli interventi per il recupero e la messa in sicurezza della facciata proseguiranno per tutto le mesi di marzo e si concluderanno nelle mesi successivo con Casa Rossini che sarà liberata dalle impalcature per il Le Ponte delle 25 di aprile e domani 16 febbraio torna la 19esima edizione di Millumino di Meno la giornata nazionale delle risparmio energetico organizzata da Caterpillar e Radio 2 a Pesaro saranno spente le luci di Piazza delle Popole e accesa la musica nel centro storico con brani in filo di fusione che racconteranno la battaglia per salvare il pianeta contro il cambiamento climatico nelle pomeriggio aperta anche la Sonosfera con fruizione gratuita ma con obbligo di prenotazione altra importante iniziativa sarà il Green Food Week che sensibilizzerà i ragazzi delle scuole ad un menu più sostenibile a basso impatto ambientale prevista in comune anche la seconda consulta della sostenibilità e la 38esima fiera regionale delle tartufo nero pregiato di Acqualagna si apre quest'anno con un evento più unico che raro domenica 19 febbraio infatti si apriranno le danze con l'unico carnevale alle mondo in cui si lanciano tartufi alle posto delle solite caramelle alle ore 9 ci saranno le aperture degli stand alle ore 10 un importante seminario alle teatro conti sull'attualità dei problemi legati alle tartufo alle ore 15 inizierà la sfilata dei gruppi mascherati per le vie delle pese e alle ore 16 in piazza musica intrattenimento e le lancio dei tartufi e a seguito della grande richiesta di pubblico raddoppio l'appuntamento di sabato 18 febbraio alla chiesa del suffraso di Pesaro con The Present Is Not Enough un progetto di Silvia Calderoni e Legna Caleo oltre alla rappresentazione delle ore 21 per la quale sono rimasti pochissimi posti lo spettacolo è previsto anche alle ore 19 a pochi giorni dalle debuto ad Hamburgo The Present Is Not Enough giunge a Pesaro in prima italiana la chiesa del suffragio che riapre per la prima volta le sue porte dopo i lavori di riqualificazione nell'ambito di teatro oltre Festival da Amat con il comune di Pesaro e Fondazione Pescheria e restando sempre in tema di teatro giovedì 16 febbraio alle Sanzio di Urbino va in scena Stefano Sabelli in Figli di Abramo per la regia di Gianluca Iumiento il monologo proposto da Amat è una sorta di mistero buffo incentrato sulla vita e la dinastia di Abramo un'opera che si presenta come un diario di viaggio per poi concentrarsi a riscrivere con ironia e divertimento la storia e la leggenda primo profeta monoteista dell'umanità e stanno per cominciare le settimane rossignane ovvero il lungo contenitore di eventi musicali legati alle compleanno di Gioacchino Rossini si comincia questa domenica con Rossini in canto Rossini in canto un gioco di parole che accompagnerà il primo concerto delle settimane rossignane 2023 in onore del non compleanno di Gioacchino Rossini primo appuntamento organizzato da Amat insieme al Circo Amici della Lirica e Rossini Opera Festival sarà il duo composto dal mezzo soprano Chiara Alloi e dall'organista Mirko Ballico a deliziare il pubblico domenica 19 febbraio sulle note del Cigno è un concerto all'interno della manifestazione del non compleanno di Rossini per noi è un'occasione importantissima come circolo partecipare a questo grande evento con tante iniziative all'interno ci sono tantissimi concerti noi apriremo questa rassegna il 19 alle ore 21 nella chiesa della Madonna delle Grazie ci sarà l'organista Mirko Ballico che è un affermato organista il quale ha trascritto anche le overture di alcune opere di Rossini e poi accompagnerà anche una cantante Chiara Alloi è affermata giovane cantante mezzo soprano e quindi nella tradizione del circolo che appunto offre canto lirico in questo modo abbiamo abbinato sia la manifestazione del non compleanno con la nostra tradizione del canto e fra l'altro l'organo che verrà suonato è un organo degli anni 60 che è molto eclettico si presta benissimo a questo repertorio e sarà sicuramente una serata interessante dal punto di vista degli esecutori e anche del repertorio che svolgeranno ed ora concludiamo il nostro telegiornale parlando di sport per chi ci segue in prime edizioni vi ricordiamo che si sta concludendo proprio ora la partita di calcio di Serie C tra Visse, Pesaro e Pontedera mentre alle ore 20.45 inizieranno a Torino i quarti di finale di Coppa Italia di basket fra la VL e Varese quarti di finale di Coppa Italia che nelle calcio a 5 sono stati vinti ieri sera da una grandita dal service che ha espugnato 5-3 il campo padovano delle Petrarca grande prova degli uomini di Colini che vanno sotto prima 2-0 pareggiano con Dalcine e Toni Dandelle vanno di nuovo sotto per poi chiudere le match sulle 3-3 con Murillo Schiochè nei supplementari altre due reti di Schiochè danno la vittoria e le gratificanti approdo alla Final Four e di Coppa che si giocherà il 25 e 26 marzo a Napoli ed era questa l'ultima notizia di questa nostra nuova edizione di Rossini News prima di lasciarvi le previsioni delle meteo vi ricordo l'appuntamento con le prime serate di questa sera inizieremo subito dopo questa edizione delle telegiornali e l'edizione successiva del TG quella delle 20.40 alle ore 20.10 alle ore 21.10 approfondimento la Regione Marche alla Bitte di Milano questa sera vedremo un'intervista realizzata dalle nostre Antonio Astutti a Francesco Baldelli assessore regionale alla viabilità e alle infrastrutture prima serata che poi prosegue alle ore 21.20 un altro approfondimento in studio avremo Alessandro Ligurgo e Davide Ipaso della Confesercenti Peser Urbino anche in questo caso intervistati dalle nostre Antonio Astutti e ci proiettiamo a domattina come di consueto appuntamento alle ore 7.20 in diretta con la rassegna stampa della provincia di Peser Urbino a condurre la rassegna stampa ci sarà la nostra direttrice Emanuela Rossi in diretta anche sulla nostra pagina Facebook e sull'app e sul nostro sito le repliche che vedete in grafica ore 8.20 12.30 14.18 E in occasione appunto della Final 8 di Coppa Italia del Basket che vi abbiamo ricordato anche nella notizia in precedenza vi ricordiamo che domani non andrà come di consueto di ogni giovedì la puntata in onda la puntata di Insieme a Canestro ma torneremo giovedì 23 febbraio sempre in diretta alle ore 21.20 E si conclude qua questa nostra nuova edizione di Rossini News e vi ringrazio per essere stati con noi e vi auguro un buon proseguimento di serata